biciclette a rapporto fisso e telaio appena verniciato vedete com'è fatto il forcellino fatto apposta per mettere la ruota posteriore al rapporto fisso un telaio un po particolare che adesso è stato verniciato con del fondo anti ruggine grigio questo è uno il secondo e il terzo queste biciclette sono state già ordinate e verranno montata montate una single speed con un telaio un po particolare questo è un telaio registrato da chi lo costruisce che è un mio amico e io io l'ho verniciato ecco il particolare questo è diverso dagli altri faccio vedere bene com'è fatto ecco l'effetto che da il carro posteriore queste sono in vendita da un mio amico che è specializzato con biciclette elettriche e ha voluto fare questo prototipo di telaio a rapporto fisso carino è biciclette da città comode maneggevoli veloci eccole qua finora c'è il fondo poi ve le farò vedere una volta verniciate e montate l'effetto che hanno ecco il particolare del forcellino a rapporto fisso queste vengono fatte proprio su richiesta di chi le vuole acquistare il colore e la forma questa è un tipo di forma ma ci sono altre forme eccole particolare questo è il piantone vedete un po mosso il bello robusto il telaio in acciaio tutti i particolari sono particolari esteticamente belli le saldature sono alti molto belle eccole qua i tre telai appena verniciati da maurizio morelli per le biciclette single speed